Paure in pizzeria ieri sera in via Nicolò Vicentino, quartiere San Pio Decimo. Un 47enne italiano e con precedenti per droga è stato sfregiato al volto con un oggetto tagliente, forse un coccio di bottiglia o di bicchiere, per aver difeso, sembra, una ragazza dalle avance insistenti di un nord africano. Una discussione che sarebbe nata prima fuori dalla pizzeria dove il 47enne stava bevendo con un amico. Il nord africano avrebbe minacciato l'uomo ti uccido e poi se ne sarebbe andato per tornare, accompagnato da altri due connazionali ed entrato in pizzeria avrebbe colpito il 47enne al voto e alla mano. Tutto si sarebbe svolto in una manciata di minuti. L'uomo ferito è stato soccorso dal suo e ma chiamato dagli avventori che hanno avvertito la polizia. Ma i tre aggressori se ne erano già andati. Il 47enne è ricoverato in chirurgia plastica a una prognosi di 60 giorni.